Tata 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 Ciao a tutti ragazzi e ben no No oggi no Ciao ragazzi sono Frost e Non c'è la intro Non c'è Non c'è perché oggi proprio Non è giornata No più che altro ragazzi Oggi ho intenzionato di parlarvi Tra te e me Cioè nel senso tra Nicola e Iscritto Non è tanto il Frost Oggi proprio oggi è Nicola Nicola ragazzi sta passando Una situazione Un periodo Veramente Demerda come si dice Demerda Per colpa Di Youtube Non c'entra nulla La vita personale non c'entra nulla La colpa principale Di Youtube Sì perché odierna mente Anzi ultimamente La situazione Frost e Youtube Non va No non va perché Non tanto per Youtube in se stesso Ma più che altro per la falsità Lo schifo La merda Il cazzo della merda Che è Il Youtube E la falsità Delle persone Quanto sono belle persone false Ma non Le trovi Non sulla dita Sulla mano Le trovi ovunque Ma quando veramente Sai che Quelle persone Che tu credevi una cosa In realtà Sono un piatto fumante Di merda Lì ragazzi Lì proprio Succede il top Del top Top della gamma Da merda Proprio io Oh Cioè La mia teatralità Arriva fino a un certo punto Nel senso io lo sto facendo Per cercare di farvi ridere Ma la situazione È veramente angosciante Proprio Fa proprio schifo Ok? Ho detto Fa proprio schifo Che cosa voglio dire Cioè Perché questo video Lo faccio soprattutto Per quelli Diciamo della mia età Diciamo quelli un po' più maturi Ma all'interno del canale O comunque anche quelli Un po' più piccoli Ma che hanno la maturità Di capire certe cose Come voi ben sapete Come voi ben vedete Non sono in accappatoio Ma questa è una crescita di felpa Che uso per lavoro Cioè perché io lavoro Ovviamente Ho un lavoro Lavoro tutto il giorno Non soltanto questa pausa Del mezzogiorno Dove carico del video del cazzo? Sì Carico del video del cazzo Perché non ho il tempo Di editarli Non ho il tempo di Ehm Non ho il tempo adesso Di riuscire a mettermi lì A mettere le cosine fighine Pop up e cazzate varie Perché sono di fretta continua Soprattutto nella pausa pranzo Ma comunque Visto che Non sono stronzo E vorrei Anzi sono stronzo Ma vorrei lo stesso Portarvi Un minimo Un minimo Di quello che sono io Della mia persona Per farvi capire determinate cose Soltanto dirvi una cazzata Giusto per farvi sentire Che sono vicino a voi E comunque Siete importanti E non voglio Che pensiate Che non lo siate Carico delle stronzate Carico delle stronzate a volte Stronzate che vengono apprezzate Per molti di voi Per quelli Ancora Attivi Pochi Ma attivi Ad altri Ad altri che veramente Non gliene frega un cazzo Del canale Gli frega soltanto Delle live Lo capisco benissimo Perché questo canale Principalmente Porta live Ma perché Non c'è tanto tempo Per fare tante cose Se io non facessi un cazzo Da mattina a sera Mi alzassi E dicessi Ah che bello Oggi registro questo video Poi vado fuori Faccio il cazzo che mi pare Vado all'iper Poi torno a casa Faccio un altro video Carico Torno a casa Controllo l'analytics 60.000 visual Bella frase Mi metto così Mi fumo una paia E intanto penso all'altro video Interessante Si potrebbe essere Un tipo di vita Che non è la mia Quindi Problema continua Cioè Non ci si può aspettare tanto Perché quello che voglio dire È che Io e la luna Visto che il canale È di entrambi Io e la luna Non siamo ancora sposati Non so neanche Quando cazzo sarà Perché Ovviamente Mancano i soldi Per fare le cose Non conviviamo Perché Sto mettendo via i soldi Per trovare un appartamento In un qualche posto Dove poter iniziare una vita Assieme alla luna Ma li sto ancora mettendo via Quindi Quando cazzo sarà Non si sa E quindi Visto che siamo lontani Anni luce Si può dire Ci vediamo soltanto A fine settimana Se dovessimo Se dovessimo Caricarvi video Fatti da dio Ok Per fatti da dio Intendo fatti dalla luna Perché io faccio schifo Al cazzo Io so soltanto Fare il coglione Davanti a un telefono Perché non ho neanche Una telecamera O un cazzo Un cazzo di telefono Ok Non abbiamo Chissà quali Mezzi professionali Ci si arrangiamo Con quello che si può E io riesco solo A fare la parte Del coglione Che parla Perché è l'unica cosa Che so fare E diciamo Che mi fa sentire Un minimo utile Alla cosa Quindi se dovessimo Portare solo video Come li fa la luna E soprattutto Contando Che la luna Non ha Mezzi professionali Non ha un computer Come il mio Che è veloce E tutto quanto Le cose dovrebbero Essere contrarie E invece no Lei Non è Al passo Col tempo Nel senso Col computer E con gli attrezzi vari Uscirebbero Far la grossa 5 video Al Mese Perché Appunto Io sono inutile Sono inutile L'inutilità Fatta persona E questo Me lo stanno Facendo pesare Capire un sacco Di persone false Quindi visto che Adesso Non siamo ancora Arrivati A Visto che Non siamo arrivati A un numero Di iscritti E di attività Soprattutto sul canale Che io Cariconvido A cazzo di cane Proprio dove Dove faccio vedere Una stronzata E mi becco 30.000 40.000 Visual Per una Minchiata Di un minuto e mezzo Visto che non ci sono Ancora arrivato Io e Luna Ci stiamo sudando Le visualizzazioni In questo caso Nel migliore Dei modi Che possiamo Io so solo Che in questo momento Visto che non c'è Unità Tra virgolette Tra me e Luna All'interno del canale Nel senso che Non siamo assieme Adesso non possiamo Dare tanto Ma quando io e Luna Conviveremo Quindi saremo assieme Sotto allo stesso tetto Lì Riusciremo a fare il culo E ne sono veramente Veramente certo Perché io e lei Siamo fantastici assieme Divisi Lei È utile Io sono inutile Perché faccio schifo al cazzo Autostima portami via Questo ragazzi È la situazione Odierno del canale Come potete vedere Va a gonfie vele Però Però Sì dai Siamo Anche Stiamo anche Per farvi vedere Una sorpresa Appunto Sul canale Che farà Cambiare il canale Direzionalmente Direzionalmente In un'altra direzione Pure la grammatica Mi manca Sono proprio Un essere perduto Un hollow Per citare Dark Souls Va beh ragazzi In ogni caso Volevo un attimo Parlarvi così Tu per tu Perché Per me siete importanti E perché Voglio che capiate Com'è la situazione Niente Grazie di avermi ascoltato In questo Mini sfogo Ricordatevi che Un canale youtube Non è soltanto Una maschera È la realtà Di una persona Detto questo Ciao ragazzi E buona giornata Grazie a tutti